Sono tanti, forse troppi, i problemi sul tappeto e il compito del ministro Patrizio Bianchi si sta facendo ogni giorno più difficile. Intanto c'è il tema dell'algoritmo che è servito per assegnare le supplenze ai precari. Stando alle segnalazioni di molti dei diretti interessati e di diverse sigle sindacali, l'intera procedura sarebbe stata costellata di errori e disfunzioni. Dal ministero si difendono e si giustificano affermando che molti errori sono stati causati proprio da sbagli e da imprecisioni nella presentazione delle domande da parte degli stessi docenti. Resta il fatto che del problema il ministro dovrà occuparsi e tenere conto per fare in modo che in futuro la procedura funzioni correttamente. Per fare un esempio, una delle elettrici della tecnica della scuola ci ha scritto recriminando. Io ho accettato la supplenza dalla graduatoria a DMM, quella relativa al sostegno nella scuola secondaria di primo grado, fino al termine delle attività didattiche, con un punteggio abbastanza alto, visto che ho alle spalle diversi anni di servizio. Poi nella mia scuola alcune colleghe non si sono presentate, pertanto le cattedre sono state reinserite nell'algoritmo. E oggi mi ritrovo nella mia stessa scuola, colleghe che con soli 25 punti in graduatoria hanno preso la supplenza annuale. Ma vediamo quali sono stati i principali errori dell'algoritmo secondo quanto ci riferisce il nostro esperto di normativa scolastica Dino Caudullo. Soprattutto in fase di operazione di convocazione sono stati registrati i maggiori problemi perché le segnalazioni sono state numerose sia nella nostra relazione sia da parte delle organizzazioni sindacali. Molti docenti hanno infatti lamentato di essere stati scavalcati nel conferimento degli incarichi da altri aspiranti con minore punteggio, soprattutto perché non erano state espresse determinate sedi scolastiche nella indicazione delle preferenze, ma erano state soltanto indicati i distretti o il comune o soprattutto perché erano state indicate soltanto le cattedre intere e non gli spezzoni piuttosto che le cattedre orario. Altre anomalie hanno riguardato ad esempio il conferimento degli incarichi ai beneficiari della legge 104 in maniera non del tutto regolare. Altra ipotesi che è stata segnalata riguarda le seconde convocazioni, cioè i docenti che sono rimasti privi di incarico durante le prime convocazioni non si sono trovati inseriti nei bollettini delle seconde convocazioni in quanto il sistema parte in automatico dal primo dei non convocati senza tener conto di chi ha ricevuto meno incarico nella prima fase. Ma non basta perché nelle prossime settimane il governo dovrà affrontare urgentemente il problema del rinnovo del contratto nazionale di lavoro. È da tre anni che si parla di aumento a tre cifre ma con le risorse disponibili ora si riuscirebbe a garantire un incremento nettamente inferiore a 100 euro lordi. I sindacati confidano che dalla legge di bilancio possa arrivare un incremento significativo delle risorse contrattuali ma va detto che gli stanziamenti del 2022 dovrebbero servire per il contratto futuro quello del 2022-2024 quindi se i soldi del 22 fossero usati per il contratto 19-21 si creerebbe un buco per quello futuro. Insomma il problema è davvero complicato non sarà facile trovare una soluzione e a proposito di risorse sarà necessario anche impiegare bene in modo efficace i 17 miliardi dei fondi previsti dal PNRR. Si parla di stanziamenti per l'edilizia, per il sistema a 0,6 anni, per la scuola digitale, per la riforma dell'istruzione tecnica superiore. Sulla carta sembra che tutti siano d'accordo ma gestire un piano di questa portata non sarà per nulla facile. Senza dimenticare che entro la fine di dicembre bisognerà poi dare avvio ai concorsi previsti dal decreto sostegni bis. Ma siamo già alla metà del mese di ottobre e sappiamo per esperienza che le procedure concorsuali non sono né semplici né rapidi. Non ultimi ci sono da affrontare e risolvere i problemi quotidiani, soprattutto quelli legati alla gestione del Green Pass e delle quarantene, con tutte le difficoltà dovute alle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali di alunni e docenti. Come si può comprendere la situazione è davvero complessa e forse per uscirne bene ci vorrà anche una certa dose di fortuna. Su questo noi continueremo a tenervi informati quindi seguiteci sul nostro canale ma anche sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie.